A voi tutti ben ritrovati amici di Rete7, amici del nord ovest italiano, guardate minimo di bassa pressione, ecco i venti che ruotano intorno al minimo, minimo che viaggia sempre più verso sud, verso le regioni meridionali e quindi nuovo miglioramento sul nostro territorio. Nella giornata di giovedì un po' di nuvole al mattino, ultime sfocchettate ma da nord avanzeranno aperture del cielo soprattutto tra il pomeriggio, vedete, e la serata. In serata il cielo sarà in prevalenza sereno un po' dappertutto e quindi poi dopo il tramonto farà davvero freddino. Vedete le ampie aperture del cielo serali, ancora qualche nuvola tra la Liguria e Basso Piemonte, i settori più orientali della Lombardia ma come detto ci sarà un netto miglioramento nella giornata di giovedì proprio perché il minimo andrà più a sud, si allontanerà dal nostro territorio, minime comprese tra meno 2 e 0 gradi, localmente anche valori attorno ai meno 3 e meno 4, guardate le temperature massime comprese tra i 5 e i 7 gradi. Per ora è tutto, noi cari amici ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento meteo, arrivederci.